Io credo che i nostri cittadini debbano essere adeguatamente informati, anche l'evento che abbiamo organizzato oggi serve per dimostrare ai nostri concittadini che la regione si sta muovendo, tutta la struttura sociosanitaria è una macchina ben oliata che è pronta a dare tutti i servizi e anche a erogare i vaccini a tutti i cittadini che lo richiederanno. Adesso non sappiamo ancora se il vaccino potrà essere erogato in monodose oppure se richiederà un richiamo entro una settimana sapremo anche questo. Nel caso in cui sarà possibile erogare le monodose automaticamente avremo il doppio di vaccini disponibili per tutti e allora si apriranno anche altre prospettive per la vaccinazione di massa.